Ennesimo rinvio, un Consiglio regionale sotto scacco dei diktati di Salvini e del suo braccio armato Bellachioma qui in Abruzzo, quindi della Lega, ma soprattutto è sotto scacco un'intera regione. I suoi cittadini, la comunità regionale abruzzese, non si parla qui in regione di sanità, trasporti, di studenti a terra, mezzi che non funzionano e che non trasportano appunto, caccia, agricoltura, imprese o lavoro, ma si discute di legge elettorale nazionale. Ci chiediamo davvero se la legge elettorale nazionale sia un tema che riguardi o che interessa gli abruzzesi. Noi pensiamo di no, stiamo allontanando sempre di più la nostra regione da questo governo regionale e vogliamo evidenziare con forza, anche con l'ostruzionismo, che non è questo il tema che interessa gli abruzzesi. Andremo fino in fondo e non vogliamo rientrare tra quelle cinque regioni che daranno il via libera scambiando, confondendo quelle che sono le priorità dei cittadini rispetto invece a quella che è la priorità di una sola persona che intende in questo modo assecondare ai suoi voleri un'intera comunità regionale.